Hanno prima segato una delle inferriate alla finestra, poi una volta dentro in una manciata di minuti hanno fatto razzia di argento per un valore di circa 200.000 euro. Ancora un altro furto in un'azienda di preziosi, nelle mire di una banda, questa volta la New Chains di Tegoleto nel comune di Civitella in Val di Chiana. In azione nella notte cinque ladri mascherati che prima di entrare hanno isolato la zona spargendo chiodi sulle strade e piazzando un rimorchio per bloccare il traffico. A metterle in fuga il sistema di allarme, i ladri infatti non sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Si tratta dell'16esimo assalto tra tentati e messi a segno ai danni di aziende del comparto Orafo-Arettino da inizio anno. Tra questi anche un furto in una ditta che si trova a pochi metri di distanza dall'ultima colpita. Un'ondata di furti che preoccupa in un po' con l'intero settore della città, primo pollo europeo di produzione. Solamente dieci giorni fa l'incontro al Viminale con il sottosegretario Molteni che aveva garantito il potenziamento dell'attività investigativa. Il comparto vive con estrema attenzione e anche con paura. Però dopo l'incontro che abbiamo fatto a Roma secondo me c'è un'inversione di tendenza perché stiamo ad Arezzo. Finalmente abbiamo un supporto tecnico e di personale oltretutto che viene addirittura dalla Polizia di Stato con un aumento importante dell'attività investigativa e sono certo che è come quando giochi alla roulette. Col banco perdi sempre, con lo Stato perdi sempre e quindi prima o poi verrà risolto questi problemi.